la sacca da lancio può essere un buon aiuto di dire ok ti tiro la sacca e ti do una mano a tornare a tornare a riva dove sono io allora sacca da lancio innanzitutto la cosa più comoda è la corda ci sono due modi per lanciarla sia con la corda dentro al sacchetto che con la corda poi dal sacchetto allora quello che c'è da fare se voi non avete problemi di corrente quant'altro quindi è già molto più più semplice il fiume si è molto più se andate sull'adige così è già l'adige poi ballo comunque in acqua ferma in questo caso già andare vicino al massimo lui si allunga un po riesce a prendere la corda e poi dopo lo tiriamo arriva adesso vediamo come invece sì se uno lo fa in fiume deve finirle esattamente sopra perché già che se finisco sopra si incazza con un ramo se finisco sotto la corda va più veloce non c'è dubbio che la prenda quindi in fiume addosso deve finire la corda il sacchetto deve passare oltre nel largo diciamo che è più tollerante perché la corda poi sta lì ferma al massimo uno se la va a prendere da solo se proprio va male sopra leggermente sopra se proprio deve andare male i due si piuttosto che giù però c'è il pericolo di incastro la corda si blocca da qualche parte molto probabile allora per lanciare la sacca della lancia qui è molto tranquillo quindi il consiglio solo di lanciarla dal basso in questo modo come se fosse una palla da buio col vostro braccio col vostro braccio buono anche perché una possibilità avete si può lanciare da so destra a sinistra da sopra da sopra fisicamente per la spalla è più impegnativo rischiate di lasciarci la spalla invece da sotto è un movimento che non non da problemi e così via e poi si lancia come come una boccia quindi io devo lanciarla sopra in modo tale che la corda tiri dritto e finisca tra le braccia di quello che devo mandare ad aiutare ad esempio io sono qua lui la cosa importante perché non ha detto che io stai guardando lui magari io sto guardando lei e sto chiedendo aiuto a lei e dico ehi venimi ad aiutare aiuto aiuto ok io sono deconcentrato sono in panico sto cercando aiuto la prima figura che vedo la chiamo inizia fischiare faccio quello che c'è da fare lui invece cosa importante che gli dico gli faccio capire che sono io intanto richiamo la sua attenzione che può essere un urlo qualsiasi cosa si sa il mio nome mi chiama per nome io non mi ricordo come si chiama quindi lo chiamerò ti do una mano t'aiuto sei pronto corda